Comunque mi chiede, non è importante quello che trovi alla fine della corsa? No aspetta, no Gaetano, dobbiamo dare la giusta importanza a questa tua filosofia che bisogna metterla in risalto e capire. Ragazzi il momento è importante, scusate. Mi chiede, non è importante quello che trovi alla fine della corsa? Ma è quello durante la corsa? Ma è quello che provi durante la corsa? Non distraete, no? Era un momento magico, l'hai rivolato. Scusa, puoi ripetere? Mi chiede, non è importante quello che trovi alla fine della corsa? Ma quello che trovi durante e mentre corvi? Durante e mentre corvi? Scusa, sei come un porco, Dino, sei registrando, Dino? Sei come un porco! Ma perché sono stato io? No, non lo so, ma mi sa che vediamo la faccia di qua. Vediamo anche la faccia di qua. Non ho coraggio, non tengo coraggio. Porco, come è Spider-Porque? Spider-Porque. Ok, dopo questo saggio. Scusa, si chiede. Grazie.